Ciao a tutti, in questo video vedremo come importare delle immagini personalizzate all'interno di Minecraft. In particolar modo vedremo come importare queste immagini per Minecraft Bedrock. In Minecraft ad oggi esistono due versioni, la Minecraft Java Edition e Minecraft Bedrock, che equivale a parlare di tutte le versioni che sono relative al mondo delle console, degli smartphone o tablet e del PC Windows 10. Poiché io sono interessato alla versione Minecraft Education Edition e questa è basata su Minecraft Bedrock, io oggi sono riuscito a modificare un software per permettermi di importare queste immagini personalizzate all'interno di Minecraft Education Edition. Ho trovato del codice sorgente che poteva fare al mio caso, l'ho opportunamente modificato, compilato e creato un nuovo eseguibile che permette adesso di modificare anche la versione Minecraft Education Edition e importare facilmente delle immagini personalizzate. A cosa vi può servire questo strumento? Immaginiamo di personalizzare le nostre abitazioni con dei quadri, oppure come per esempio il contest Raffaello in Minecraft indetto dalla Galleria Nazionale delle Marche, che è in corso proprio in questo periodo, importare all'interno del mondo Minecraft i quadri del giovane Raffaello. Vediamo insieme adesso come si utilizza questo software perché è veramente molto facile. Allora, io mi trovo all'interno di Minecraft Education Edition, ovviamente. Ho davanti a me una parete alta 3 blocchi e larga 4. Allora, per prima cosa e per creare delle immagini personalizzate, dobbiamo accedere all'inventario premendo il tasto E e andare a cercare l'espositore. Lo prendiamo, lo mettiamo nel nostro inventario corrente, chiudo questa finestra e con il tasto destro incomincio a riempire questa parete, mettendo i 12 espositori. A questo punto siamo pronti per importare la nostra immagine personalizzata. Dobbiamo uscire da Minecraft. Avvio questo software che ho opportunamente modificato. Seleziono questo checkbox e clicco su Bedrock World. Vado a cercare il mio mondo. Si chiama Urbino Sfida 1, doppio clic e mi si apre questa nuova schermata. Vado a selezionare l'immagine che voglio importare. Clicco Open, seleziono questa bellissima immagine e mi chiede come la voglio suddividere. Nel mio mondo Minecraft io ho creato qualcosa che è alto 3 blocchi e largo 4. Quindi creo un'immagine analoga. Confermo, mi crea questa suddivisione e clicco questo pulsante. Fatto questo chiudo il software. Torno in Minecraft e avvio il mondo di interesse. Come potete vedere adesso ho in mano una cassa. Tasto destro, la poggio per terra. Tasto destro e apro la cassa. Questa cassa ha all'interno 12 mappe. Spostiamo la cassa in questa posizione e incominciamo a prendere i primi 9 pezzi di mappa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Guardate che le mappe hanno tutte lo stesso nome, mappa 0. Quindi io le ho prese da sinistra verso destra e poi queste ultime 3 le prenderemo dopo. Torno nel mondo, tasto destro, metto la prima mappa. Vado sulla seconda, metto la seconda, la terza, la quarta. Guardate il selettore in basso come passa da uno slot all'altro. 8, ho sbagliato, ho messo il settimo, l'ottavo e il nono. E' questo pezzo. Mancano 3 slot. Togliamo questi. 1, 2, 3, 4. E prendo 1, 2, 3. Cioè il numero 10, 11 e 12. E questa è l'immagine importata in Minecraft. Ora facciamo lo stesso procedimento per altri due quadri. che sono di Raffaello, che io vorrei creare come 2x3. Ok? E facciamo lo stesso procedimento. Salvo ed esco. Avvio nuovamente il software. Seleziono la versione Education Edition. Vado a selezionare nuovamente il mio mondo di interesse, che è questo. Doppio clic. Vado a selezionare in questo caso due immagini. Quadri di Raffaello. E ne seleziono due contemporaneamente. Apro. E mi comincio a proporre il primo. che noi vogliamo che sia largo 2 e alto 3. Confermo. Il secondo quadro lo vogliamo allo stesso modo. Confermo. Ed ecco che mi ha ricreato una configurazione. lo mandiamo al nostro mondo. Chiudo il software. E passo a Minecraft Education Edition. Ritorno in Minecraft. Clicco sul mondo. Accedo al mio inventario. E vedete che adesso ho una nuova cassa. Quindi tolgo tutte queste mappe e oggetti dal mio inventario. Posiziono la nuova cassa a terra. Tasto destro. E vedete che adesso ho di nuovo 12 blocchi. 4, 5, 6. Facciamo la prima parte. Ed è 1. Ah, mi sono dimenticato un piccolo particolare. Non si possono posizionare le mappe se non abbiamo un espositore. E ce ne siamo accorti. Perfetto. Torniamo alle nostre mappe. 1, 2, 3, 4, 5. La sesta mappa forse non l'ho presa. E' questa. E' 6. Ok. Il primo quadro è fatto. Vado a prendere le altre mappe. che è da partire da questa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Come avete potuto notare, le mappe devono essere posizionate dal punto più in alto andando a destra e scendendo. ed ecco l'ultimo quadro. Va da sé che quello fatto da Raffaello è molto più bello del mio. Ok, spero che questo video vi possa tornare utile. Io vi ringrazio e arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.